La signora Ida è sicura, non al 100% ma al 1000x1000, l'animale nero che visto dal balcone di casa, ferma, era una pantera. L'avvistamento è avvenuto intorno alle 18 a Rione Parco, ad Avellino. La donna era affacciata sul balcone, all'ultimo piano di questo stabile. A una distanza di circa 20 metri, nello spiazzo sotto casa, ha improvvisamente notato quella che secondo lei era sicuramente una pantera. Scartato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri forestali, gli agenti di polizia, i vigili urbani alla ricerca del grosso pelino. Fino ad ora però nessuna traccia del felide, di cui recentemente si sono perse le tracce anche al sul monte e a Sant'Angelo a scala, dove l'animale sembrava essersi rintanato. Verso le 6 io stavo fuori dal balcone della cucina e ho detto non mi rilasso, mi fumo una sigaretta. E ho visto quest'animale enorme nero, era la pantera perché c'era la coda lunga, era grandissimo, che camminava con un passo molto felpato, tranquillo. E poi ho chiamato subito Enrico, ho detto Enrico vieni un attimo perché ho chiuso il telefono, stavo parlando al telefono, che volevo fare la foto. Si è buttata nella macchina, non l'ho vista più. Lei è sicura signora? Sicura al mille per mille, altrimenti non telefonavo nessuno. Sono sicura di quello che ho visto. Non poteva essere un cane? No, 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 nella maniera più assoluta, aveva un colore nero, sembrava, c'era proprio il manto tutto, sembrava vellutato, era grande, molto grande e teniva questa coda lunga e camminava proprio con un passo che non è né di un cane né di un gatto. Sicura al mille per mille. Quanto poteva essere lunga e alta orientativamente signora? Che cosa? La pantera che ha visto, dico l'animale. Allora, io da lontano un gattino era niente vicino a lei, era proprio grande. Era alta così come ha detto lei adesso? Sì, 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 era bella grande. E lunga? Molto lunga, cioè era bella lunga, sì. Era lei, era lei, teneva una testa tutta un po' rotonda, cioè un po' grande, era lei. E' sicura al cento per cento? Mille per mille, non al cento per cento, mille per mille. Infatti la mia amica mi ha detto che lei stamattina, quello c'è un pino grandissimo, sentiva uno fruscio strano, ha sentito, questo fruscio strano, anomalo, che non ha mai sentito in vita sua, secondo me o stava sopra l'albero, non lo so. E i cani che avrebbero abbaiato, è vero? Sì, sì, i cani hanno abbaiato per tanto tempo, sì.